Oggi vediamo il tutorial di questo trattamento da salone Con punta cilindrica eseguo la limatura di preparazione al trattamento di refil Con la stessa punta accorcio le unghie velocemente Con punta cono tronco spingo la cuticola e creo il muretto cuticolare Con punta conica diamantata sollevo la cuticola aprendo il canale cuticolare Successivamente applico kit massima aderenza che comprende prep, bonder e gel base Tutte le tecniche da salone per ottenere un giro cuticole pulito in modo non invasivo Le puoi trovare sul mio manuale la ricostruzione unghie secondo Nicole che trovi in vendita su Amazon Con il pennello in setola lunga e sintetica applico file off pink La texture di questo gel estremamente versatile ti permette di ottenere una struttura di ricostruzione In modo semplice e veloce Potrai decidere tu se limarlo oppure no Ma rispetto a tanti altri prodotti della sua categoria non risulta minimamente gommoso sotto la lima Inoltre ti permette eventualmente di eseguire una stesura precisa a tal punto che può anche non essere limato Tutte le tecniche per imparare a stendere il prodotto costruttore in modo corretto Ad eseguire una stesura pulita del monocolore sotto cuticola Ad eseguire una salon manicure corretta e non invasiva sono oggetto del mio corso online Attualmente disponibile anche con pagamento rateizzato Scrivici in privato per ricevere tutte le informazioni Per questo trattamento non ho limato file off ed ho steso direttamente due applicazioni di nudo numero 3 semi permanente Su due unghie ho applicato bronzo glimmer Ho sigillato il trattamento con Magic Shine Sigillante senza dispersione ma con filtri UV anti-ingiallimento Tutti i prodotti che vedi in questo video e molti altri sono disponibili sul nostro sito leunghiedimigol.com Su due unghie sigillate con top matte velluto Applico water paint per eseguire la nail art in superficie Scopri 14 tecniche e metodi veloci per eseguire tutte le nail art da salone più richieste Puoi farlo acquistando a rate il mio corso online completo Scrivimi in privato per ricevere tutte le informazioni Con pennello perfetto ed eco gel aggiungo dettagli alla nail art Entra nel nostro gruppo chiuso dedicato alle studentesse Acquistando il corso tecnico completo riceverai tutta la mia assistenza Dopo aver eseguito la limatura del margine inferiore con punta precisione Idrato la zona peringueale applicando olio per cuticole Guarda come tornano le mie clienti dopo 4 settimane Sulle storie del profilo Instagram leunghiedimigol Se il video ti è piaciuto metti un like e condividi Grazie Grazie a tutti